Se ne incarica Tonetto Tonetto per Restivo Restivo serve De Paola De Paola cerca lo spazio per il tiro Lo prova Pericoloso il gem con De Paola Restivo Un lancio verso De Paola Controllo bellissimo, difficile di De Paola Che poi col tacco si porta dentro l'area L'appoggia a Parisi Palla fuori Opportunità preziosa per il gem 2 a 2 Pro e il tiro Restivo, pericoloso Retrolla Moreschini Ancora Restivo Parisi subisce Il fallo Restivo Allarga su Tonetto Tonetto, Parisi Ancora Tonetto, il tiro col destro Tonetto firma il 3 a 2 gem Al quinto minuto del secondo tempo La palla in mezzo Parisi Tonetto la ridà Restivo Restivo, il tiro col destro Risponde Presente Egizio Durante il chat Il tiro col destro Non lo so Sul Il tiro col destro Ganazza Lontano Non lo so Uno Coll faut Con S As Grazie a tutti.